Aladin è un amabile ragazzo di strada, ansioso di abbandonare la propria vita da forfante, poiché è convinto di essere destinato a qualcosa di più grande. Dall'altra parte della città di Agrabah, la figlia del sultano, la principessa Jasmine, coltiva a sua volta i propri sogni. Desidera una vita fuori dalle mura del palazzo e vorrebbe utilizzare il proprio titolo nobiliare per aiutare gli abitanti di Agrabah, ma suo padre è troppo protettivo e la sua dama di compagnia, Dalia, non la perde mai di vista. L'obiettivo del sultano è trovare un marito adeguato alla figlia, mentre il suo leale è fidato a consigliere il potente stregone Jafar e frustato dall'atteggiamento passivo del sultano nei confronti del futuro di Agrabah ed è scogita un piano per impadronirsi del trono. Aladin sarà proiettato al frontone cinema all'aperto di Perugia il 29 giugno alle ore 21.30. Perugia il 29 giugno alle ore 21.30.